Buonasera. Eccoci qua, eccoci qua. Buonasera a tutti quanti. Benvenuti ad una nuova puntata di Cosa ne pensi? La videorubrica di Tele Cialtrone su serie tv e film con Valerio Il Cialtrone e Terence Maverick. Ok, no, io facciamo così per dire con Valerio Il Cialtrone. Buonasera. Ok, perfetto. Sai cos'è che io sono stato ipnotizzato dal tono da Radiomaria che hai utilizzato. Mi è piaciuto parecchio. Sì, ho deciso, riascoltando le live ho deciso di adottare dei toni più radiofonici perché vogliamo essere sempre più professionali. Come vedo da lei stasera il mio carissimo ospite. Io sono ospite poi. Sì, diciamo che alla fine te sei ospite ma anche io sono ospite. Però tu sei il padrone di casa e vedo stasera che il padrone di casa ha una risoluzione in HD meravigliosa. Ma guarda, c'ho anche il joystick. Guarda cosa ti faccio. Madonna. Non me l'aspettavo tutto questo sfarzo fantastico. Ti prego, stai così tutta la live. Quello sarebbe molto bello. Meraviglioso. Come stai, Valerione? Benone, Benone, te? Hai visto un gran bel film, eh? La mia risposta che ho da dirti è che fino a stamattina stavo bene. Poi però mi sono visto il film che mi hai costretto a guardare e ora mi è preso lo sconforto perché stasera facciamo la sottorubrica a cosa ne pensi. E la sottorubrica sarà... Valerio, ma che cazzo mi hai fatto vedere? Potrebbe essere una bella rubrica. Cosa cazzo ho visto? No, Cosa cazzo ho visto era per Sisu. Questa bisogna trovare un altro nome per questa sottorubrica. Eh, Cosa stracazzo ho visto. Cosa stracazzo mi hai fatto... No, Cosa stracazzo mi hai fatto vedere. Questo può essere un buon titolo. Rispondi pure tu, Vale, che Cosa stracazzo mi hai fatto vedere per stasera. Qual è il film di cui parliamo stasera? Allora, il film di cui parliamo stasera è Jackpot, diretto da Paul Feig, di cui il buon Terrence Maverick si dichiara hater, a quanto leggo, e con protagonista Acquafina, accompagnata dal buon John Cena. E, fra l'altro, io di Paul Feig, non sapevo un cazzo, non sapevo neanche che esistesse. Poi ho scoperto che era il regista delle amiche della sposa, che mi ricordo che era una bella commedia. Cioè, non una delle robe nel mio gusto, però una bella commedia. Se non sbaglio, ho anche candidato all'Oscar, comunque aveva avuto il suo bel successo. Poi ha fatto Ghostbuster al femminile, che io non ho visto, ma so che non è piaciuto come operazione, e immagino che la punizione sia stata quella poi di arrivare a girare Jackpot. Bellissimo. Quindi, nella storia che hai descritto, lui, dopo quel film lì, Hollywood non gliel'ha perdonata e quindi l'ha portato a girare questo film di cui parliamo stasera. Io ho sta sensazione, io ho sta sensazione. A me è piaciuto parecchio, cioè, per ovviamente il gusto, so bad, so good. Ah, ok. Ok, allora sì. Allora sì. La domanda iniziale che dobbiamo porci è, ma secondo te, John Cena e Acquafina, lo sanno che nella nostra lingua i loro nomi fanno rima? E soprattutto Acquafina, lo sa che in italiano il suo nome significa Acquafina? Lo saprà? Beh, immagino che fa rima, faccia rima anche nella loro lingua. Non lo so se fa proprio così tanto. John Cena, Acquafina, non so se è la stessa identica. Acquafina dici che non si pronuncia Acquafina? Guarda, non sono così bravo in inglese, più che altro nello slang americano. Secondo me poi gli americani sono così folli da non rendersene conto, secondo me. Però, ad ogni modo, Acquafina, io non sapevo neanche che esistesse. Io di Acquafina conoscevo solo il personaggio di Bojack Horseman, che a quanto, immagino che sia una parodia di lei. Ah, ok, no, perché siccome lei fa anche la doppiatrice, ti stavo per chiedere chi doppia in Bojack, però in realtà c'è una parodia di lei. Lei doppia qualcuno in Bojack? Cioè, io avevo l'altra informazione. Vai con quello che sai, perché mi spugge. No, io semplicemente, sai, in Bojack Horseman c'è il personaggio di Pina, Acquafina, comunque una cantante, infatti Acquafina è pure cantante, che ha le forme di un delfino, Acquafina. Ok, ok. Quindi quando io ho letto Acquafina presente nel cast, dicevo... Chi cazzo è? Il personaggio di Bojack Horseman? Allora, no, io quello che so di Acquafina è che sì, nasce come... Non morire. Di pazienza, Vale, mi sono un po', non dico raffreddato, ma ho fatto... Ho lavorato con il condizionatore e ho sudato, quindi sono un po'... Tossirò un po' di volte, però sto bene, non ti muoio in live. Eh, peccato. Anche se, esatto. Sarebbe molto bello. Per parafrasarti, se tu sei in live adesso e facciamo la live, è bello, ma se muori, beh... Eh... Sarebbe esilarante. Sarebbe fantastico. Sarebbe fantastico. No, io quello che so di lei, e penso che a un certo punto... Hai presente che a un certo punto lei dice, non la voglio più fare l'attrice, perché tanto ormai a Hollywood sia wrestler che youtuber possono diventare attori famosi, no? Io credo che lei abbia iniziato, insomma, sbasticando su YouTube e comunque proponendosi inizialmente come cantante e poi è diventata anche attrice, ma soprattutto quello che so è che è doppiatrice, doppia un sacco di personaggi... Un sacco che aveva anche fatto io gli special comici, mi sa. Ah, questo non lo so. Guarda, io non sapevo... Come te, sapevo dell'esistenza del nome, ma non so niente di... Una persona eclettica che probabilmente fa male tutto quello che fa. Guarda, potresti averci azzeccato in pieno. Allora, io ti dico subito la cosa che mi è piaciuta di più di tutto il film. Vai, vai. Io comunque sono un simpatizzante di John Cena, ma ne avevamo anche già parlato, so che anche a te piace John Cena, però io lo conosco da prima, capito? Io dietro, cioè qua si intravede, c'è un poster di Eddie Guerrero, sono fan del wrestling, nasco come fan del wrestling quando avevo 12-13 anni, quindi per me, cazzo, John Cena è John Cena, no? E a me la cosa che fa impazzire è che John Cena, quando compare in questo film, sembra al pacino, cioè vedi finalmente una persona che sa tenere l'attenzione, è incredibile. Sì. E questo è che fa capire il livello del film. Beh, ma John Cena è l'ennesima conferma innanzitutto che una persona con un corpo come il suo può tranquillamente far ridere, certo, non può fare i personaggi, che cazzo so, non può fare il Woody Allen della situazione, ma c'è tutto un campionato che può giocare e che se ha i tempi comici adatti funziona alla grande, oltre ad essere l'ennesimo wrestler che dimostra grandi tempi comici e grandi capacità in campo cinematografico. Gli altri due che mi vengono in mente sono sicuramente The Rock, Dwayne Johnson e Dave Batista. Secondo me Batista è anche, è addirittura secondo me un attore completo, se uno ha visto Blade Runner 2049 di Villeneuve, lì si vede all'inizio Dave Batista che fa una delle sue prime prove drammatiche ed è veramente bravo secondo me. Il Batista mi ha sorpreso parecchio perché appunto lo conoscevo dal wrestling, nel wrestling è stata una leggenda, però non so, non ci avrei visto a recitare, ci avrei visto più altre persone e invece mi ha sorpreso. Diciamo che ci ha conquistato facendo Drax il distruttore nei Guardiani della Galassia. E lì mi ha sorpreso perché se da John Cena ti potevi aspettare, nel senso dell'umorismo, da Battista non mi sarei aspettato un personaggio comico. Io so, io arrivo a dire che il punto più alto all'interno di quel film divisivo, che oserei dire divisivo, che è stato Barbie, è il momento in cui si vede per un frame per un millesimo di secondo John Cena che fa il sirenetto. Io ancora non l'ho visto Barbie. Sappi che c'è quel momento in cui dici ok, alzo le mani. Tra l'altro John Cena, io mi sono reso conto che John Cena l'abbiamo scoperto insieme, Vale, il suo talento comico, perché la prima volta che l'abbiamo visto in una situazione del genere è stato in un film di Judah Apatov, che era quello con Amy Schumer, se non ricordo male. Un disastro di ragazza. Un disastro di ragazza, dove fa uno dei suoi primi ruoli comici e ci siamo detti, ma quella è John Cena, è grandissimo. Ma sbaglio o era pure il film in cui Judah Apatov aveva usato Lebron James con un personaggio comico? Forse faceva proprio un amico di John Cena. Forse hai ragione. Eravamo lì a discutere, perché io mi ricordo che ci eravamo arrappati all'idea di Space Jam 2 con Lebron James, dopo averlo visto in un film per una parte comica. Allora, Lebron James fa la parte dell'amico di Bill Hader, che è il moroso di Amy Schumer dentro il film. John Cena non ha un ruolo molto determinante nel film. È uno dei ragazzi che si scopre il Schumer all'inizio del film, ma poi non si vede più. Invece Lebron James ha un ruolo molto più determinante. Infatti ci siamo detti, ma cazzo, ma questo sa recitare. Poi abbiamo visto Space Jam 2 e invece abbiamo detto, no, non lo sa fare. Diciamo che è stato bello sperarci. È stato molto bello sperarci. Allora, vogliamo parlare... Siamo partiti subito per la tangente. Vogliamo parlare in generale di che cosa parla questo film di cui parliamo stasera, qual è la trama e quali sono più che altro le intenzioni di un film come Jackpot. Se vuoi, lo dico io, se no dimmi tu se vogliamo smezzarci un po'. Come vuoi te, vai, vai. Allora, la trama... La trama è una parodia di The Purge, fondamentalmente. È un po' The Purge. È un po'... Io ho visto anche un po' il tentativo di fare una specie di satira sociale alla Demolition Man, però non ce la fa proprio. Proprio arranca nel tentativo. Sostanzialmente la trama è che a Los Angeles ci sono dei problemi economici. Vabbè, c'è tutto un cappello introduttivo anche abbastanza inutile. Che non ha senso, che non ha senso. Neanche, cioè, nel tentativo di far satira devi comunque fare una cosa che abbia un minimo di logica o di contrologica. Quello è una cosa a cazzo, totale. Totale, totale. Perché la trama qual è? La trama è che c'è questa lotteria dove uno sceglie di partecipare a questa lotteria e però partecipando a questa lotteria lui può essere rincorso da tutta la città di Los Angeles e quanto tempo ha? 48 ore? Le mitiche leggendarie 48 ore? 48 ore, no? Forse 24. Forse una giornata. È proprio tipo il giorno del giudizio. Ok, sì. Praticamente in queste 24 ore la persona che decide di partecipare a questa lotteria deve sopravvivere a tutta la città che cerca di ammazzare questa persona e chi riesce a ucciderla si becca il monte premi. Questa è la trama... E fra l'altro no, si becca un monte premi che era di 5 bilioni di dollari. No, 3 milioni e 6. Era una cifra calda. No, no, almeno un miliardo c'era. Erano tipo 3 miliardi di dollari, una cosa del genere. Eh, billion, billion. Sì, sì, esatto. Esatto. Però erano tipo 3,6, una roba del genere. E il cappello introduttivo ti dice siccome ci sono dei problemi economici in America eh, Los Angeles ha deciso di fare questo questo premio, questa lotteria e chi la vince prende 3 milioni e 3 bilioni e 6 di dollari. 3 bilioni e 6 di dollari sono una roba che non ha senso. Cioè, capito? Sì, esatto. Ma infatti è tutto a cazzo. Già dai primi due minuti dici questo film questo film non avrà il minimo senso. cioè devi proprio sospendere la logica innanzitutto perché non è che ci viene detto allora, il film è ambientato nel futuro perché siamo nel 2030 c'è proprio anni luce rispetto ad ora e non è che ci viene detto che nel 2030 non so, Los Angeles si è staccata dagli Stati Uniti ha fatto una specie di stato federale comandato da un dittatore e la legge del dittatore la sua parola è legge e questo dittatore ha deciso che si fa questa lotteria qua e non si discute cioè, non è che dici il film non è che ti dice Los Angeles è diventata la Corea del Nord e quindi si fa si fa quello che dice il dittatore no, no il mondo è esattamente come quello di sempre però ci sono problemi economici a Los Angeles sì, però a Los Angeles hanno deciso di fare questa cosa qui e neanche la giustificano dicendo c'è il problema della sovrappopolazione e allora in questo modo facciamo uno sfoltimento perché così, un po' come era le premesse di The Purge in questo modo dando la caccia a questa persona o la persona o tutte le persone coinvolte qualcuno morirà quindi facciamo uno sfoltimento no, no, no cioè, come dici tu c'è un problema di c'è un problema di soldi cosa abbiamo trovato come soluzione dare soldi alla gente è una logica che proprio non ha senso già parte di merda già parte di merda poi ti dico già dalle prime inquadrature non so se era una sensazione mia perché sai che ho visto il film abbastanza stonato che è il motivo per cui l'ho apprezzato parecchio secondo me ti è piaciuto di più perché l'hai visto io l'ho visto stamattina e l'ho così porca troia mi è piaciuto un botto poi l'ho visto pure con un amico mi è piaciuto un sacco guarda se avresti potuto farmi uno scherzo prendo questo film è bellissimo guardalo ci divertiamo è una delle commedie più divertenti e poi lo guardiamo e dice vabbè che cazzo cosa mi ha consigliato in effetti al fine ti sto consigliando una commedia action con John Cena e con un regista uno che aveva fatto comunque delle cose dignitose prima sì adesso apriamo la parentesi Paul Fitch perché fin dall'inizio fin dalle prime inquadrature quello che noto io è una sorta di povertà ma a partire dalla fotografia dal setting è tutto povero cioè sembra sembra a livello sitcom italiana quasi come riprese in certi momenti sono molto d'accordo e non capisco come un regista che ha fatto delle cose decenti sia finito a fare un progetto del genere cioè boh capisco anche la dinamica c'è Amazon che spende soldi a cazzo dai dobbiamo fare top film facciamolo lo giro col culo ma hai fatto tanto male allora io ti posso dire che secondo me tu sei molto buono con questo qui con Paul Feige cioè io oggi mi ha scritto mi ha scritto Marco Champiet in privato dicendomi no l'ho visto il film di cui parlate stasera non capisco perché ad Acqua Fina gli fanno fare i film così io non ho fatto in tempo a risponderli ma gli rispondo in diretta adesso Marco la mia domanda è perché fanno fare i film a Paul Feige non ad Acqua Fina perché secondo me Vale tu lo stai difendendo a mio parere fin troppo perché quest'uomo gli è riuscito se va bene allora Le Amiche della Sposa è un bel film io ho visto solo Le Amiche della Sposa in realtà Spy l'hai visto con Jason Statham no non ho visto un cazzo Le Amiche della Sposa mi ricordo di me comunque ripeto non è il mio però era un film molto carino allora io devo rivederlo non lo vedo da un bel po' è un film è una commedia carina questo te l'ha buono Spy è un film con Jason Statham che non è così male bisognerebbe anche anche quello riguardarlo però ecco il fatto è che quest'uomo anche quando fa il suo meglio non è che fa delle cose pazzesche incredibili no però arrivare al livello di Jack beh ma io ho visto Ghostbusters quello lì quello polemico è fatto tanto male allora il fatto è questo che io non ci ho trovato nulla di sbagliato sulla carta a fare un film con quelle premesse perché il Ghostbuster originale era un film non tanto con un cast maschile ma con un cast di nerdoni ma soprattutto comici del Saturday Night Live che volevano dimostrare di sapere anche recitare sul grande schermo in un film importante diretto da Ivan Reitman quindi secondo me l'idea di fare la stessa cosa facendo il gender swap e quindi prendendo la segretaria che anziché farla fare l'attrice è diventa Chris Helmsworth se non ricordo male era quello di Thor che faceva la segretaria ma soprattutto prendere un cast di comiche del Saturday Night Live e farlo in quel modo per me è assolutamente in linea con quello che era Ghostbusters ma lì magari diciamo che si può discutere dell'intelligenza di farlo nel senso che purtroppo al di là del fatto che abbia un senso penso che tutti quelli che no no nel senso tutti quelli che sono fan di Ghostbusters o comunque potrebbero essere il pubblico di Ghostbusters siano appunto dei nerds e gaioli maschilisti cioè capito certo quello quello non c'è dubbio però sicuramente è molto più in linea l'idea di fare così e partire dal facciamo una commedia con tinte horror perché alla fine questo era Ghostbusters Ghostbusters era una commedia horror piuttosto che l'andazzo che ha preso adesso con la Legacy cioè con Ghostbusters Legacy e con Ghostbusters lo ho evitato accuratamente eh ma quello lì quello non è Ghostbusters quello è Stranger Things è un'altra roba eh io ho visto il trailer mi sembrava Stranger Things e ho detto boh ne faccio anche a me esatto esatto cioè sicuramente poi dopo ovviamente il film deve essere bello cioè il film poi deve funzionare e le gag devono funzionare però sicuramente era molto più in linea con lo spirito originale di Ghostbusters quello di Paul Feige il problema poi è che il film non funziona perché le gag non fanno ridere i personaggi sono caratterizzati scritti ma è proprio scritta male come commedia però le attrici erano tutte una sono tutte una più brava dell'altra e una più centrata dell'altra e secondo me qui qui si ripresenta la stessa cosa cioè il film comunque John Cena e Acqua Fina non sono due attori cioè sono due attori che all'interno di un contesto in cui poi siamo partiti dalla premessa la premessa è già assurda di suo però vabbè dice ok chi se ne frega il film poi che cos'è un continuo inseguimento action comedy di Acqua Fina che involontariamente prende parte a questa lotteria a questa scommessa e John Cena che si presenta come una specie di capo dell'FBI protezione testimoni cioè comunque un capo di forze segrete che si propone per salvarle la vita e il film è questo loro che cercano di scappare da tutta Los Angeles che gli vuole fare il culo ma sai da premesse così semplici si possono tirare fuori anche delle cose fighe cioè se le scene d'azione fossero state tirate bene se soprattutto le gag basate sulle scene d'azione avessero avuto un senso guarda io anche se prima di arrivare ai momenti d'azione porca troia cosa fa tipo un 20 minuti mezz'ora di rottura di coglioni su sta stronza che deve andare a fare il provino che c'ha la coinquilina stronza che fra l'altro fa un sesso della madonna questo è detto fra di noi tranquillo non siamo in live su twitch e la prima mezz'ora sembra un quasi un vi faccio vedere john cena tranquilli c'è perché perché lo fan vedere in due frame a caso è vero ma sembra il classico finchia utilizzato john cena sul cartellone per avercelo poi 5 minuti la prima mezz'ora sì sì è vero no tutta la parte iniziale di lei che ha problemi con l'affitto e lì a los angeles tutti i problemi è cioè sembra mi è sembrato anche molto quel cinema tu all'inizio parlavi parlavi di sitcom italiane fatte male lì è esattamente quel cinema mainstream che cerca di fare della critica diciamo dei bassi fondi di una città ma si vede benissimo che sei pieno di soldi e non hai idea di come funzionano certe cose non riesci a fare veramente della satira dell'ironia sui problemi di una ragazza che senza un soldo va a los angeles deve pagare l'affitto in una casa dove ti entra la pioggia in casa cioè sembrano quei film italiani orribili commedie dove palese che vogliono stare dalla parte no del tipo tipo i film di coso come si chiamava l'attore che faceva martellone te lo ricordi Bruno qualcosa lui fa esattamente quel tipo di cinema commedia lì sono completamente tipo nessuno mi può giudicare è un film dove sei completamente distaccato dalla realtà delle borgate romane ma in qualche modo le vuoi raccontare hai la faccia tosta di volerle raccontare si vede benissimo che non le conosci queste cose e non riesci a fare davvero ridere su quelle cose lì Massimiliano Bruno bravissimo Massimiliano Bruno dai hai tirato fuori proprio una cosa che penso da tempo nel senso che trovo proprio imbarazzanti sui film che hanno effettivamente sono completamente d'accordo perché ti danno quel senso di 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 estraneazione no cioè quel senso gli sto vedendo una cosa che non regge esatto cioè ti sembra tutto strano tutto surreale ma non è un surreale voluto è ho messo degli elementi che non c'entrano l'uno con l'altro e non hanno un equilibrio sì ma soprattutto è gente che quella roba non la vive è gente che quelle situazioni non le vive magari non le ha praticamente quasi mai vissute quindi non riesce a trovare un modo divertente o intelligente di far ridere su queste cose perché una persona che invece quel tipo di commedia la sa fare con tutti quei primi venti minuti di premessa di questa ragazza che deve arrivare a Los Angeles e ha problemi col trovare un affitto e si ritrovi in una casa cioè la casa doveva essere in condizioni disastrose per far ridere non doveva essere un appartamento tutto sommato a parte qualche piccola cazzatina no un bellissimo appartamento soltanto e poi c'è la gag che gli piove la merda dal tetto che che esagerazione no cioè doveva essere veramente una situazione tremenda per farmi il contrasto no e cazzo tu vai a vivere in un posto di merda e paghi un fottio di soldi per stare lì dentro ovviamente cioè quello è proprio il fatto che dici te di di non sapere di cosa minimamente di cosa stanno parlando perché ha mostrato una casa in realtà molto carina esatto e poi l'unica gag che ti motiva il fatto che è una casa del cazzo è una gag comunque che è esagerata non esiste in nessun mondo un condominio dove il cesso di sopra caga merda sul letto addirittura di sotto capito bravissimo esatto sono situazioni che non fanno ridere vabbè mettiamoci la merda così si capisce che facciamo ridere e si capisce che sono poveri esatto cioè esatto perché uno comunque una persona vede una scena del genere e dice ma scusate ma qual è la logica che dal cesso nella stanza di sopra la merda ti entra comunque tutti sanno che quando caghi la merda entra in un tubo entra nelle tubature cioè come cazzo è possibile cioè io posso capire c'è la muffa cioè capito ti entra la muffa in casa c'è dei problemi di muffa in casa ma cazzo che ti entra la merda è proprio che sei fuori dal mondo come sei fuori dal mondo che la persona l'affittuaria la ragazza che a te fa sesso l'affittuaria dice ah quindi ti sono tutti sporcati i vestiti non ti preoccupare puoi usare i miei e glieli metti a noleggio glieli mette lei la fa pagare per prendere i vestiti cioè è una cosa come fai quando mai ma no ma ti dico quello alla fine è tanto e tanto rispetto alla merda più che altro è la superficialità con cui è scritto tutto sì sì conseguenza con cui è scritto quel personaggio perché il personaggio della coinquilina è un personaggio che è cattivo perché è cattivo buon cioè quindi come arriva fa tutte le cose più spregevoli ma l'amico che come arriva gli dà uno schiaffone in faccia acqua fina cioè ma come stanno messi questi personaggi quella doveva essere un'altra gag è una sequela di gag che non fanno ridere cioè lì la gag doveva essere ma no ma come ma te fai combattimento perché sulla borsa c'era scritto fight e in realtà era cinema fight cioè che lei stava andando in palestra cioè andava in palestra a imparare il combattimento cinematografico cioè questa è la battuta quindi ti ho dato uno schiaffo perché lo avresti dovuto evitare è certo è certo è certo che fatica a guardarlo da solo te non hai idea cioè tu l'hai visto in compagnia quindi hai potuto commentare queste cose e ridere di quanto si sforza questo film di farti ridere ma non ce la fa ma ti dirò di più l'abbiamo iniziato dicendolo iniziamo fa cagare e poi non ce l'abbiamo fatta e abbiamo dovuto finire no tremendo quando poi inizia perché poi c'è tutta la parte del provino che anche lì è pieno di gag che non fanno ridere che ti dice ma ragazzi ma dai sforzatevi di tirare fuori due battute due che possono far ridere invece anche lì niente e quando poi inizia iniziano a menarsi inizia la grande il grande inseguimento di acqua di Los Angeles la città di Los Angeles contro acqua fina e tutti quanti poi ecco cioè dal nulla tutti quanti sanno come funzionano le arti marziali o quantomeno il film vuole farci vedere che tutta tutta Los Angeles è esperta di arti marziali ovviamente ovviamente si vede l'attore cioè c'è un montaggio ragazzi questo è uno di quei film con un montaggio orrendo e forse è nato per far sì che si vede per un secondo la faccia della comparsa dell'attore e il secondo dopo si vede la nuca dello stuntman che sta facendo quella cosa ma a me la cosa che fa più ridere di tutte è che parte e acqua fina dopo aver menato le stronze che erano al casting scappando finisce in mezzo a dei karateti che si stanno allenando e lei comunque resiste un 5 minuti buoni prima che arrivi John Cena esatto esatto sì sì e quando arriva John Cena e la prende e la fa roteare lì per me proprio lì il film tocca il suo apice dello schifo quella è una delle scene action comedy più brutte che io abbia mai visto terribile vai dicevi scusa non volevo interromperti no 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 quello dicevo che a me fa impazzire che il fatto che questa qua che comunque studiava appunto e ci avete fatto anche la gag prima combattimento cinematografico si mette a 12 in mezzo a 12 che fanno karate pure il maestro e in un modo o nell'altro tira un calcio nei coglioni a uno per sbaglio tira una testata all'altro sì ma poi come dici tu cioè questa idea folle di lei è in un posto sfonda il muro e si ritrova in una scuola di karate cioè guarda caso proprio in un posto dove tutti devono saper fare le arti marziali però lì è stato il momento in cui mi son detto questo è un film che Jackie Chan te l'avrebbe girato con gli occhi chiusi e una mano dietro la schiena e avrebbe fatto un capolavoro perché è veramente quella successione cioè la trama è veramente esile e c'è esattamente quel tipo di escalation di successioni che vedi nei film di Jackie Chan e lì uno che quelle scene te le sa coreografare cioè la scena del combattimento orribile lì dentro la scuola di karate dove arriva il nostro John Cena che lì veramente lì ti dici povero lui ce la mette tutta a cercare di essere divertente il suo personaggio renderlo quantomeno affabile simpatico in qualche modo ci riesce almeno lui a non fare la figura del tutto a me la cosa che è impressionato è che lui sembra al pacino in quel film perché ogni volta che entra tira sul film e se lo carica sulle spalle è impressionante però che sia John Cena ad avere questo effetto sì sì è vero è lui che davvero hai ragione cioè lui fino a prima che entri John Cena è veramente brutto poi quando arriva John Cena non è che diventa bello però quantomeno al confronto al confronto di tutti gli altri lui sembra al pacino sì 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 quando arriva John Cena e lì cominciano altri combattimenti eccetera lì mi sono detto qua se c'era qualcuno che sapeva fare quel combattimento lì se lo faceva qualcuno che quelle cose le sa fare coreograficamente adesso va bene oh non vogliamo tirare in ballo Jackie Chan che è proprio un altro campionato qualunque Terence Hill e Bud Spencer è più divertente più coreografato meglio di quel combattimento lì ma sì anche perché la trama è semplice però è quella classica scusa semplice che ti può portare a fare il bel cazzatone divertente cioè questo film girato bene poteva essere un cazzatone divertente sì 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 questo qui nelle mani di un David Leach quello di John Wick o di un Edgar Wright di un Matthew Vaughn cioè questo lo mettevi in mano a questi qua ti veniva fuori ti veniva fuori un bel film magari anche con una trama con un attimino più di senso ecco cioè ripeto un altro problema grosso è la trama che è proprio scritta in due secondi e per me qua ripeto qua il problema non è né John Cena né Acquafina il problema è Paul Feig è Paul Feig che questo film l'hanno messo nelle mani di uno che l'action comedy non la sa fare sa fare a malapena la comedy secondo me infatti io stasera sono l'hater di Paul Feig me lo prendo tutto perché per me il problema vero è che questo cazzo di regista continua a lavorare con nomi grossi e gli fanno fare tutti questi film che in maniera un blockbuster da cassetta che che magari appunto punti punti a fare punti a fare il film che faccia i soldi fondamentalmente che non c'è niente di male non c'è niente di male ma in realtà io la vedo un po' diversa vorrei anche magari adesso cerchiamo su google sarei curioso di vedere quanti soldi ha mosso questo film perché io invece lo vedo come la sua tomba nel senso che io so che cioè Amazon lo vediamo anche in Italia produce un sacco di film perché deve farli per riempire il catalogo e per per dire boh speriamo che uno vada bene non lo so però fa tanti film ma cazzo c'è anche qua in Italia io non so se se te ne avevo parlato che avevamo rifatto praticamente da grande sai il film con Pozzetto hanno praticamente rifatto da grande con un cast in cui c'è Brignano Luca e Paolo mi sono visti i primi dieci minuti ed è una roba di un imbarazzo ma di un imbarazzo ma brutto brutto ma perché non ci impegniamo a fare le cose per bene secondo te come è possibile che uno io penso che sia una cosa una questione un po' di Amazon perché mi sembra che Amazon faccia dei prodotti molto in serie con degli attori con delle persone con dei registi che magari ha assoldato con contratti a lungo termine e ce li hanno a disposizione cioè io immagino che Amazon abbia a disposizione Lillo e Lillo ha il contratto che ogni anno deve fare un film due serie e un talent c'è capito penso che funzioni così perché se no non mi spiego proprio questo concentrato di nomi anche abbastanza importanti anche comunque se pensiamo all'Italia Luca e Paolo e pure Brignano con tutta l'antipatia che posso avere nei suoi confronti però non sono nomi scarsi capito in film così brutti e ripeto io poi non ho seguito la carriera di Paul Feig post Le Amiche della Sposa che è l'unico film che ho visto e che per me era carino quindi a mia non è una difesanzia è un'accusa ancora di più perché ho la sensazione che sia finito in uno di questi prodotti vuoti come i pacchi che ti danno con il mattone al posto del telefono quando ti truffano all'autogrill e e questo film lo abbia fatto con il culo io penso Amazon abbia avuto abbia detto vabbè mettiamoci John Cena acqua fine dai facciamo dirigere Apple Fake e lui fa le commedie ma penso che lo abbia diretto lui col culo ma che abbia avuto anche poco budget secondo me perché al di là di pagare John Cena acqua fine a livello di fotografia a livello di setting mi sembra un film molto povero se ti devo dire la verità allora c'è da dire mi sembra proprio il film che te dai ecco mi sembra l'equivalente del Re Leone 2 che esce appunto in cassetta c'è proprio il mercato a un video capito cioè mi sembra un cazzatone fatto con due soldi per il mercato a un video dove magari ci hai messo dentro John Cena così come poteva essere quello di Stallone con poi anche Battista Escape come si chiamava all'inizio era Stallone e Schwarzenegger e poi è entrato Battista nella saga e lo hanno sviluppato solo per l'on video quello Escape Plan non mi ricordo Escape Plan sì quello con Schwarzenegger e Stallone esatto e quello il 2 e il 3 li hanno fatti dove Stallone era pubblicizzato ma aveva 10 minuti di screen time ed era un film a bassissimo budget non riesco a trovarti quanto è costato questo film però già il fatto che questo sia il secondo film che Paul Feige gira esclusivamente per le piattaforme quello prima era l'Accademia del Bene e del Male che è stato distribuito direttamente su Netflix fa effettivamente pensare dai sì perché no però fa effettivamente pensare perché è già il secondo film che fa che va direttamente sulle piattaforme e non in sala che insomma per un regista non è mai una cosa proprio piacevolissima ecco e allora io quel pensiero il pensiero che io riguardo a lui cioè allora secondo me lui è un buon mestierante però però non ha tutto sto valore ti ripeto è uno che cioè non è nemmeno uno che dici che cavolo so un Giudapatov ti può stare sul cazzo per come scrive per come fa per come fa delle cose eccetera però lo riconosci che ha una certa come dire una certa mano e una certa un certo dominio sulle sue creature questo a me mi sembra uno che è sempre capitato lì per caso cioè gli è andato bene le amiche della sposa gli è andato bene Spy però poi è quello di Ghostbusters è quello di Last Christmas è quello dell'Accademia del Bene e del Male ed è quello di Jackpot capito è uno che quello che gli passa lui lo fa e quando invece poi ci sono delle cose tipo questo che se lo mettevi in mano a qualcuno che sapeva farle queste robe non ci sarebbe venuto fuori qualcosa di molto molto meglio è che probabilmente per quello anche ti dico che secondo me è la sua tomba ed è un film che è costato poco probabilmente uno che queste cose le sa fare non lo accetta questo film nel senso che se lo accetta vuole avere anche determinate garanzie per poterlo fare in maniera decente certo perché se ci pensi a parte John Cena e Acquafina il resto sono tutta gente sconosciuta e a giudicare no no vai 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 ah si c'era quello di The Office eh si qui cazzo io ero sempre sempre contento ma quanto sono brutte le ultime inquadrature che fanno su di lui nella parte finale eh si 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 inquietanti da quanto sono brutte ma scusa ma perché quando vanno nel museo delle cere quanto è imbarazzante quel momento è pieno guarda poi se c'è una cosa guarda già il film in sé dici vabbè è un film è un action comedy con l'action fatta di culo montato di merda dove veramente ecco sarebbe interessante intervistare sentire l'opinione del coordinator stunt di un film così quanto il culo che si fa uno stunt coordinator per un film del genere dove ecco io non lo so se se John Cena ha arrivato a questo punto si fa gli stunt da solo ma ne dubito eh però magari alcune scene potrebbe averle girate lui alcune scene di d'azione probabilmente fatto sta che è un film dove davvero c'è un impiego di stuntman esagerato e lo vedi cioè non so come dire Vale però è un film dove il montaggio è talmente forsennato e serrato per farti credere che è acqua fina quella che sta girando per la stanza così però è fatto tutto talmente male che è evidente che non è lei è ovvio posso dirti a me sembra un po' come le scene di stunt in nei blues brothers quando fanno il medio in seguimento e lì è fatto apposta che vedi addirittura i rialzi c'è capito qui vedi tutto ma la differenza è che la sensazione che vorrebbe dare è no no stiamo facendo davvero capito non c'è quel gioco meta linguistico che faceva i blues brothers esatto che poi per carità cioè non c'è niente di male assolutamente a usare tutti hanno gli stuntman tutti gli attori che fanno action hanno gli stuntman lo stuntman è un grandissimo mestiere tutto ci sta fino a che tutto ci sta non vedo una scena in cui palesemente vedo una persona che non è quella che era la protagonista a fare delle pirouette esatto ma poi il problema è proprio ti ripeto il problema è proprio è proprio come è girato tutto questo e ecco no volevo dire non solo è un action comedy con l'action con la componente action comedy fatta veramente male la trama non ha il minimo senso e le battute non vanno a segno è pure un cazzo di film con un botto di battute alla Deadpool ovvero battute che si riferiscono a un mondo di Hollywood esistente c'è un sacco di frecciatine a personaggi a situazioni a attori che esistono e quindi c'è tutto questo giochino che va bene ok magari appunto io le battute le battute le capisci perché gli attori sono famosi tipo quando dice quando lei si fa scortare via e dice no io non voglio farmi portare via da questi qua da te e da questi Jason Momoa con il coso con il doppio petto voglio che sia lui a portarmi via e proprio ti dici ma donna quanto è sfigato questo film cioè è proprio un film che è talmente sfigato è talmente è talmente disastroso e disperato nel tentativo di farti ridere che si aggrappa a qualunque proprio si aggrappa a qualunque cosa pur di tirare fuori di strapparti un sorriso cioè a un certo punto i protagonisti vanno a casa di Machine Gun Kelly ragazzi miei ragazzi miei vanno a casa di Machine Gun Kelly e tu ti becchi un film dove a un certo punto certo che come dici tu al confronto John Cena e Al Pacino se al fianco c'hai Machine Gun Kelly che cerca di recitare ma non era quello vero però no era quello vero erano come cane no io ti dico eravamo fattissimi sono andato a cercare mentre quando è uscito no 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 quello è Machine Gun Kelly se no che senso avrebbe Machine Gun Kelly nel ruolo di se stesso e no se no sarebbe ancora più ridicolo la cosa è lui è lui non ci assomiglia alle foto che ha su internet avrà messo un parrucchino ma sai è diverso però sicuramente non ma te immagina se non era lui allora sarebbe stato il top del top del non abbiamo il budget nemmeno per chiamare Machine Gun Kelly beh quello sarebbe stato un capolavoro ma fra l'altro cioè anche quella mi sa che è una mezza citazione per stronzi del loro mondo nel senso che cioè così da a caso dicono dobbiamo nasconderci ah mi viene in mente un posto e vanno a casa di Machine Gun Kelly così 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 quindi immagini c'è una citazione perché sarà uscita una notizia che va a un bunker che cazzo ne so eh sarà uscita la notizia che lui apre le porte a tutti va a capire cioè lì poteva esserci Machine Gun Kelly come poteva esserci già Red Leto che è un altro che fa le cose pazze in giro per il mondo no è proprio un film inutile che boh avrà divertito forse Paul Feig e loro e basta anche me anche me anche te anche te capolavoro da stonato è un capolavoro no bellissimo no ma ci sono delle battute in questo film terribili ecco la nuova la nuova rubrica lo spin off film da vedere da fatti bello sì sì ah sì sì va bene va bene ci sto ah ci avrei due o tre titoli da tirarti fuori vabbè ti dico io ho trovato poi ne parleremo in privato ma c'è tutto anche un sottogenere italiano dove di solito recita Stefano Fresi cioè i film Stefano Fresi sono sono indicativi di solito che lui è bravissimo secondo me però ne fa io non lo so perché alla fine io ero partito l'ho conosciuto che ho detto è un fenomeno perché l'ho conosciuto smetto quando voglio però ti assicuro che non c'è un film e dico uno al di là di smetto quando voglio che io ho visto con Stefano Fresi che sia decente non carino decente sai a me piace allora me sta pure simpatico però figa è proprio il battiston del discount cioè c'è un cazzo da dire questa è una provocazione molto interessante cazzo effettivamente stavo per dire dai in quella roba lì non era male ma era battistone non era lui porca miseria è una provocazione niente male niente male allora tornando al nostro bellissimo meraviglioso film ti viene in mente qualche altra battuta becera perché ragazzi questo è un film pieno di battute una più brutta dell'altra e per me davvero il momento in cui mostra la faccia per quello che è è proprio quando fa battute sullo show business sullo star system hollywoodiano su cose che faranno ridere soltanto loro fra l'altro fra l'altro ha mantenuto comunque cioè io non so come gli sia nato il progetto di Ghostbusters al femminile però vedo che cioè ce l'ha un po' con questa cosa dell'inclusività cioè in questo film tutti asiatici personaggio gay cioè c'è di tutto di tutto si può darsi che non allora vedi è questo cioè è questo che questo stronzo è talmente uno che chiami all'ultimo minuto che come cazzo fai a dire potrebbe essere una sua caratteristica un suo stilema autoriale come cazzo fai per questo che ti dico Giuda Patovalmeno ti può stare sulle palle o meno però lo riconosci lo riconosci subito magari fa anche dei film alcuni film che non mi piacciono però mi sta simpatico no 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 poi magari un giorno ecco un giorno potremmo fare una puntata dedicata se non all'interità all'intero cinema suo che alla fine li abbiamo visti tutti i suoi film però quantomeno a anche solo a funny people madonna funny people anche solo al primo e al secondo atto di funny people poi il terzo atto come dice Bojack Horseman il terzo atto di un film di Giuda Patov lascia sempre un po' a desiderare no no funny people ne parleremo questa è una promessa assolutamente quindi che dire di questa merda è su Prime è una di quelle perle di Prime perché guardare Sisu su Prime Video quando potete guardare Jackpot eh va fra l'altro vorrei andare a rivedermi Jackpot ma semplicemente a vedere i film che mi consiglia poi dopo Jackpot perché dopo Sisu c'erano tutti i film dove la gente andava ad ammazzare i nazisti certo dopo Jackpot ma secondo me ti propone tutta roba sulla ludopatia e sul su gente che ha problemi con le scommesse con i soldi ma anche lì cioè il fatto che questi anche il discorso che l'umanità cambia radicalmente è disposta tutta la gente tutti sono disposti ad ammazzare pur di avere pur di avere i soldi ma giocala un po' su sta cosa cioè creami qualcosa ecco cosa volevo dire che mi stavo dimenticando riascoltandomi la puntata su Trap a un certo punto perché te ti riascolti le puntate beh sì io mi riascolto le puntate io mi riascolto le puntate io mi riascolto le puntate per capire perché io sono molto autocritico e quindi mi riascolto le puntate per dirmi tipo cazzo ma è chiaro perché vabbè ci sta perché alla fine te sei quello che sa parlare di cinema siccome io so già che gli dico cazzate non mi riguardo no però tu vedi io per esempio mi impampino io mi detesto in live io non mi sopporto in live perché balbetto mi impampino mi incespico e quindi mi riascolto odiandomi e dicendo a me stesso prendi fiato respira fai la voce radiofonica da coglione così almeno così almeno non 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 e cazzo c'è pure il microfono radiofonico hai ragione mio carissimo valerione quindi che dire no bravo ecco riascoltandomi la puntata su trap a un certo punto abbiamo parlato dei vari alan richson e appunto anche josh hartnett e sean william scott che erano i gli ex ex divi della commedia demenziale americana che poi in qualche modo hanno avuto una un loro una loro seconda vita alan richson con richard e con adesso l'ultimo film di guy richie josh hartnett appunto questo questo ritrovarsi in oppenheimer in the bear e nel film di di shamanlian e poi ho tirato fuori il nome di sean william scott che era lo steve meister di american pie che io ho rivisto nell'ira di becky e tu mi avevi detto guarda che sean william scott c'è anche all'inizio di un film bruttissimo con john cena e quindi quando all'inizio il film parte con questo prologo in cui si vede sean william scott che è la vittima che poi sarà acqua fina c'è questo prologo in cui si vede sean william scott che è la la vittima sacrificale prima che il film inizi per davvero sì io ci sono una settimana che all'inizio pensavo fosse un personaggio comunque importante non sapevo nulla del film ho detto boh figa infatti io io non capisco perché chiamano sean william scott che in questo momento avrebbe tanto bisogno di lavorare tanto per fargli fare un ruolo che si sarebbe sarebbe stato molto più consono a una star che tutti conoscono cioè quello è un ruolo che dai a una persona a un tom cruise che ti fa il cameo all'inizio del film muore e poi inizia il film il concetto il concetto quello che voleva fare Sergio Leone con c'era una volta il west sai la scena iniziale che nella nella sua idea i tre che Charles Bronson ammazza dovevano essere il buono il brutto il cattivo esatto esatto il concetto lì di far morire la star all'inizio eh sì ma cazzo chiama una star all'inizio ma uno che è sulla bocca di tutti devi chiamare non Sean William Scott che per quanto sia famoso lo vedi lo riconosci subito però non nel film lui ora è meno famoso di John Cena tu devi chiamare uno che è più famoso di John Cena che è più sulla bocca di tutti rispetto a John Cena quindi non ho capito perché la scelta ecco vedi anche lì la scelta sarà ricaduta su di lui perché magari è amico di Paul Feig perché magari sono amici vada c'è in questo momento non ha niente da fare lo chiamo è così che è venuto fuori in sto film io mi rifiuto di credere che ci sia un senso ripeto io non ho seguito la carriera di Sean William Scott ma da questa apparizione che fa fa un'apparizione strana per come te me lo ricordavo cioè appare sembra comunque un attore d'azione sì e forse è anche l'unico credibile a livello d'azione a dimostrazione ennesima che lui è bravo ma scusa ma quanto avrebbe funzionato di più se gli avessero detto Sean fai il coglione come solo tu sai fare fai Stifler che viene inseguito da questi qua e quindi si caga addosso ma quanto Cass avrebbe fatto più ridere invece gli fanno fare un personaggio come dici tu che non è un personaggio comico sembra sembra una scena d'azione girata di merda sì sembra tipo un Jason Bourne dei poveri esatto esatto e anche infatti sprecatissimo Sean William Scott io ci credo prima o poi qualcuno un Edgar Wright un Matthew Vogue qualcuno chiamerà questi bei manzoni farà un film dove c'è dove c'è coso dove c'è appunto il protagonista di Trap che deve vedersela con io voglio un film con il protagonista di Trap che fa coppia con Alan Richson quindi lo smilzo è il grosso e deve combattere contro boh degli stronzi di estrema destra capitanati da Sean William Scott che deve fare però il villain matto in culo quello è un film quello è un film che voglio shut up and take my money proprio tu vale dovresti guardare la prima puntata di Blue Mountain State la serie che ha dato fama in un certo qual modo a Alan Richson per capire per capire di che cosa è capace questo attore ma Blue Mountain State è lunga come serie no sono tre stagioni e durano venti minuti venti minuti a puntata è una parodia è la versione ultra esagerata delle commedie demenziale americane sui college americani ma è proprio super esagerata è talmente è oltre proprio cioè non tutte le stagioni a 13 puntate perfetto guarda io ti consiglio io ti consiglio perché purtroppo mi sa che non c'è su nessuna piattaforma abbiamo provato a vedere su 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 Prime Video c'è a partire dalla seconda stagione quindi che si fotta c'era su Netflix qualche tempo fa infatti è diventata un oggetto di culto perché faceva parte del catalogo di Netflix io ti consiglio di guardare anche solo la prima puntata c'è su Infinity ma con cazzo mi faccio Infinity con cazzo e ci penso io quando chiudiamo la live ti dico io come fare per guardarti almeno la prima puntata per renderti conto di che cosa è capace questo attore perché appunto noi adesso tutti lo conoscono per The Reacher ed eventualmente per il ruolo che ha nell'ultimo film di Guy Rishi ma lì è lì che che dici cazzo questo è bravo secondo me e potrebbe dare tanto ma lui me lo devo recuperare in assoluto che non cioè non ho mai l'ennesima prova che uno con un corpo come quello con una faccia come quella perché lui comunque anche nasce come modello è l'ennesima persona che sfata il mito che uno bello con un fisico scolpito così non può farti ridere invece può far ridere anche a livelli esilaranti proprio sarebbe interessante comunque capire come come dire si sono aperte un po' le porte per questi personaggi che sono appunto statuari ma si prestano a fare i buffoni non so se ha dato una mano magari appunto anche già d'Apato con le prime apparizioni con la prima apparizione di John Cena e le Bon James in Un disastro di ragazza o non so forse anche la Marvel con allora no secondo me tirare fuori la Marvel quindi Chris Hemsworth quindi tutti quelli lì o anche solo banalmente The Rock cioè Dwayne Johnson secondo me è un po' un errore perché comunque questi personaggi per quanto si sforzino di fare la commedia e in certi casi Dwayne Johnson se la cavicchia anche in certe cose però sono sempre dei vincenti sono sempre comunque cioè sono più sono più fighi che divertenti questi personaggi qua mentre invece secondo me John Cena è proprio bravo a fare il coglione a fare beh ma John Cena è un cretino nella vita cioè se ne parlerai mai con Mauro Bedini lui ti illustrerà perché per dirti già nell'utilizzo di Instagram è un genio cioè lui fa tipo non so se si chiama shitposting comunque mette post senza senso fa molto ridere uno che tu da appassionato di wrestling una volta mi avevi citato è CM Punk che se non sbaglio avevi detto lui se facesse il personaggio comico sarebbe incredibile no non è un personaggio comico io ce lo vedrei proprio fare l'attore CM Punk cioè a capire come sta di testa nel senso poi vabbè adesso apro una parentesi un attimo ma lui è tornato a lottare dopo dieci anni che non lottava con una grandissima polemica con la WWE è andato nella federazione rivale la AEW due anni fa e lo hanno cacciato perché ha litigato con tutti i soldoni adesso è tornato in WWE e sta facendo tipo il personaggio per bambini nel senso è strano da vedere cioè è veramente l'anti-eroe che diventa poi di destra c'è capito ok quello che era sempre stato l'anarchico il ribelle adesso figa avete una pena vederlo ho capito ho capito no secondo me questo è un grande momento in generale per questi attori con questi corpi che però poi si propongono come come personaggi comici cioè questi sono ruoli che cioè uno stallone non avrebbe mai potuto fare anche anche banalmente perché stallone sa fare tante cose ma insomma diciamo che la comicità non è proprio nelle sue corde fermati o mamma spara eh esatto esatto gli si vuole bene a Silvestro esatto paradossalmente c'è riuscito molto di più Schwarzenegger Schwarzenegger c'è riuscito molto di più a fare a far ridere sì 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 a far ridere ecco però ecco se al tempo schfarzi chiudo questo se al tempo schfarzi schfarzi era era un'eccezione all'interno della regola oggi invece è molto quotata questa cosa di essere dei personaggi muscolosi nerboruti però divertenti però però simpatici no diciamo che Silvestro Stallone secondo me potrebbe ridargli una possibilità alla commedia sei sicuro? dai prima di morire un ultimo tentativo no stavo dicendo che fra l'altro non abbiamo trovato il momento Rocky 3 nella carriera di Paul Freig eh questo è male hai ragione allora il momento Rocky 3 nella carriera di Paul Freig non c'è eh allora aspetta ripetiamo che cosa intendiamo per momento Rocky 3 vada maestro beh il momento Rocky 3 è quel momento in cui una persona in qualsiasi ambito eh in qualsiasi momento della sua vita dopo aver vissuto magari un iniziale successo ha avuto una caduta sugli allori e il momento Rocky 3 è quando lui ritrova gli occhi della tigra ed esce fuori con un progetto con i controcoglioni ok allora secondo me deve arrivare ancora il momento Rocky 3 per Paul Freig arriverà e ah beh allora se deve arrivare secondo me questo è il momento più opportuno perché dopo che fai i due film che ti vanno direttamente sulle piattaforme senza manco passare per la sala e sono questo e l'accademia del bene e del male adesso è il momento di tirare adesso è il momento che gli arrivi gli arrivi a casa l'allenatore che gli dica a te ti sei imborghisito ti sei non hai più l'occhio della tigre e deve tirare fuori l'occhio della tigre secondo me la cosa più probabile è che non so se già il prossimo progetto ma magari fra due o tre ti tiri fuori le amiche della sposa due bravo stavo per dirlo bravissimo stavo per dirlo adesso è il momento di tirare fuori le amiche della sposa due vai Paul facci sognare forza Paul no invece mi è venuto in mente che questo film è talmente cialtrone che a un certo punto c'è pure il momento della caduta dell'eroe in cui tutti e due sono in una stanza e si parlano che palle che palle cazzo ti dico quella scena lì anche da fatto è stata difficile è stato insostenibile ma sono stati dieci minuti buoni in quella cazzo di stanza la cazzo di stanza ad albergo a parlare ecco 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 perché ce n'era un'altra cosa che a un certo punto mi era stata tanto sui coglioni quando John Cena per fare il discorso motivazionale tira fuori le tartarughe ninja io gli ho detto quanto cazzo sei sfigato film non riesci cioè quello quello lì è la bruttissima copia del momento Spice Girls nella prima stagione di The Boys vero 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 con la differenza di cui c'è anche l'applicare in maniera scolastica il concetto la regola del tre nella comicità nel senso che lui se non sbaglio si è presentato la prima volta con la canzone cantando la canzone delle tartarughe ninja poi momento di di ritrovo fra di loro in cui sono chiusi nella stanza e tira fuori le tartarughe ninja per rendere più profondo il personaggio di John Cena però momento simpatico momento simpatico del momento profondo no? sì e poi ovviamente doveva tornare nella battaglia finale per forza il callback finale è una cioè l'ho visto proprio applicato in maniera molto molto scolastica aspetta ma tu ti riferisci al combattimento finale ah sì perché lui dice fuori dal guscio a un certo punto sì comunque tira fuori infatto perché lui cioè nello scontro finale ha una certa dice proprio potere delle tartarughe ninja 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 power sì è vero dice così e dice fuori dal guscio e poi c'è il callback finale quando apre la pizzeria e gli fanno causa per diritto d'autore eh e quella forse è l'unica cosa che fa sorridere ma perché John Cena è troppo stupido in quella scena cioè la fa bene capito sì ma lui non fa ridere cioè poteva essere qualsiasi cosa al di là delle tartarughe ninja sì hai ragionissimo no ma qui se gli chiedono perché hai fatto questo film qua ma come hai fatto a passare da questo a quest'altro maestro tra le due c'è una cosa chiamata mutuo ma oltretutto ne abbiamo parlato già prima sulle scene iniziali ma rendiamoci conto che comunque questo film finisce con acqua fina che si salva da sola cioè alla fine è acqua fina che salva John Cena in tutto ridendo e scherzando sì sì assolutamente sì 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 la trama questo è quello che poi alla fine succede perché poi c'è perché a un certo punto evidentemente hanno detto non possiamo fare che questo film è un inseguimento continuo facciamo un terzo punto in cui arriva un personaggio nuovo e c'è quindi questo la trama prende una piega strana che è totalmente inutile e tra l'altro è anche un personaggio che all'inizio ti sembra un po' è e poi c'è c'è questa pochezza di scrittura in quel personaggio lì nel cattivo finale che ti lasciano intendere che forse in realtà era colpa di John Cena e quindi lui forse non è così stronzo ma tu lo sai già che in fondo lui è stronzo e poi quando hanno quando hanno il confronto scopri che oh sorpresa lui in realtà è veramente stronzo no allora io ti dico io ho avuto il momento d'illusione perché ho detto dai vediamo se provano a fare una roba non ti dico non scontata perché sarebbe stato scontato comunque no però una roba un pochino più più gestita no con qualche intreccio in più e dai stai a vedere che magari non è così cattivo cioè è ovvio che è cattivissimo ma magari no e invece sì oddio santo no mi dispiace tanto per John che deve fare che sei ritrovato in questo progetto qua che ripeto cioè c'hai John c'hai John Cena e questo film è un action comedy ma sai che questo poteva essere figo come film tanto figo deve essere una figata totale proprio peccato sarà per la prossima ma io spero perché comunque è veramente John Cena cioè io uso la metafora sembra il pacino in questo film però John Cena secondo me al di là della qualità del film ne esce veramente benissimo quindi io spero che qualcuno vedendolo lì già comunque John Cena è uno che lavora cioè che problemi non ne ha ed è anche un nome che tira qualcuno vedendolo lì possa dire ma facciamo la stessa roba ma fatta meglio con John Cena eh sì speriamo davvero bene Valerione direi che ne abbiamo parlato abbastanza di questo film incredibile guarda abbiamo superato l'ora facile facile alla fine te che parlavi male di questo film cioè sappi come si dicevano i misfits si insulta ciò che si ama è vero è vero è vero hai ragionissimo infatti ti ringrazio per avermi fatto vedere questa merda di film e niente non resta che salutarci ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito e allora il prossimo appuntamento te lo chiedo in diretta qui lo facciamo sempre di domenica il prossimo sì ok domenica domenica prossima è il siamo già dentro settembre mi sa e non ci sono eh no la domenica prossima è il primo settembre no aspetta ti devo dar conf... ah il primo mi segna qua ah no ah era agosto stavo guardando sì ci sono ci sono sì il prossimo ok allora il prossimo appuntamento con la rubrica cosa ne pensi la faremo la prossima domenica appunto il primo settembre e l'argomento del prossimo appuntamento sarà il dittico Deadpool e Deadpool 2 sì perché parte la road to Deadpool and Wolverine esatto film di cui sinceramente non me ne frega proprio un grandissimo cazzo però però siccome un nostro amico di cui non faremo il nome perché vorremmo fare la sorpresa un nostro amico ha voluto ci ha chiesto se facciamo una live su Deadpool e Wolverine allora faremo la road to cioè faremo la preparazione alla live su Deadpool e Wolverine e quindi la prossima settimana faremo Deadpool 1 e 2 insieme ne parleremo insieme in una live e possiamo già anticiparlo quella dopo parleremo di Logan che è un film vale che abbiamo visto insieme al cinema davvero ti ricordi l'abbiamo visto tra l'altro cioè che cazzo di film che cazzo di filmone cioè l'abbiamo visto insieme al cinema quella volta che mi sa che poi è venuta fuori cioè io non è che sono venuto da te con l'intento di eravamo insieme da te a Piacenza e ci è venuta voglia di andarlo a vedere quello sicuro però eravamo lì insieme a fare il weekend diceva andiamo a vedere Logan va bene va bene quello è stato fighissimo e tra l'altro ti dirò io in realtà non lo vedo da allora forse anch'io no no io l'ho rivisto un'altra volta con il buon Simone che salutiamo il buon vecchio Simo no no fantastico quindi faremo questa road to e quindi non ci resta che salutarvi e dirvi assolutamente seguiteci io Terrence Maverick su Instagram e Valerio il Cialtrone su Instagram e buonanotte ciao e buone volte